Abbiamo sentito che gli all-flex si allenano costantemente sempre, anche voi, uguale? A questi livelli penso che tutti gli sport che alleni tante volte, sia il rugby che il calcio, tutti gli sport di un certo livello necessitano di tanto allenamento e di tanta passione. Voi ragazzi quante volte vi allenate? Due volte a settimana. Va bene così per il momento, secondo voi, due volte? Devono studiare, devono anche studiare, quindi, no, come no?